E benvenuti a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video In questo video qua, come avete letto al titolo e visto dalla miniatura Volevo andare a prendermi un'offerta su Clash Royale Io sono arrivato da qualche giorno, credo 2-3 giorni in Arena 14 Infatti ho superato le 4.600 coppe, sono precisamente a 4.727 coppe E mi volevo andare a prendere l'offerta per essere arrivata in Arena 14 Intanto, prima di iniziare il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale E attivate la campanellina per non perdervi più nessun video Quando vedete il video con tutti i vostri amici per far vedere anche a loro E appunto questa offerta shoppata da me E passatevi al link in descrizione e andate a me a seguire su tutti i miei altri social E commentate anche scrivendomi a quante coppe state O semplicemente a che arena siete Intanto l'offerta è questa qua Pacchetto picco della serenità, valore per 6, quindi costa 20 euro Invece di costare 120 euro, quindi ben 100 euro di risparmio Tanta tanta roba Come leggite qua, Arena 14 Abbiamo 3 bauli leggendari, 2 bauli epici, 2 bauli magici 175 jolly rari e 130.000 monete Io allora la vado a prendere e ci vediamo appena appunto ho preso l'offerta Ok allora ecco ho preso l'offerta Mi ha dato già i 175 jolly rari Poi baule leggendario Vediamo Un drago infernale Vabbè dai 1 su 4 per il livello 11 Apriamo l'altro baule leggendario Un jolly Adesso 2 jolly su 2 Che scam Vediamo E la cimitero Che scam assurdo Vediamo su l'altro che può trovare solamente epiche Il bauli è epico Una guardia 5 cuccioli di drago 6 orda di scheletri E 8 veleno Una mega class Esatto Sì forse Che allora Arco X Poi barile goblin Poi guardie Barile barbarico Infine 2 bauli magici Con 1600 di oro 3 jolly Appunto Jolly epici Goleman di Alisir Sbloccato Buono 21 cannoni 48 Barbaricelti 19 Moschettiere 7 tornato E anche la leggendaria Vediamo chi è Arcere magico Che posso portare al 10 Va bene Dai La leggendaria non era scontata E poi in ogni caso ho trovato anche Il golem di Alisir Poi vediamo L'ultima Cassa Un bauli magico Di nuovo con 1600 di oro 38 jolly comuni 7 Appunto Goblin 7 spiriti del fuoco 18 gigante royale 8 estrattore di Alisir 12 gabbie per goblin 10 drago elettro Questa volta Non è la leggendaria Però comunque Un bauli Non è andata Affatto Male Allora Io direi poi Di far così Di andare a potenziare La zap Al 12 Poi dopo Di Dare Il libro Delle carte Per poterla portare Al 13 La cassa Esatto E poi Adesso abbiamo Anche maxato La zap Quindi vabbè dai Alla fine Andate a maxare La zap Abbiamo trovato Il golem Di Alisir E ben 4 leggendari 3 assicurate Una Una no Però Una di queste leggendari Qua è stata Il jolly Vabbè Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Tavate la campanellina Per non perdere nessun video Passate per i link In descrizione Andate mai a seguire Su tutti Gli altri social E condividete il video Con tutti i vostri amici Per far vedere Anche a loro Di questo bellissimo Box opening Dalla mia tutta Ci vediamo In un prossimo video E Bella